Con una cerimonia sobria ma molto partecipata, sono stati presentati a Corinaldo i lavori di restauro che hanno interessato Palazzo Brunori, storica di Mora Patrizia, d'attuale sede centrale della Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo, che ha finanziato sia l'intervento strutturale che quello di recupero di affreschi e decorazioni delle sale interne. Si tratta in pratica del coronamento finale delle tante iniziative che l'Istituto di Credito ha messo in atto per celebrare il suo primo secolo di vita. Sono molto soddisfatto intanto appunto di aver restituito alla cittadinanza e alla banca un patrimonio veramente eccezionale. I restauratori sono stati eccezionali perché sono stati veramente professionisti, artigiani professionisti. Hanno realizzato un qualcosa che difficilmente fuori penso che sia difficile ritrovare. Tant'è vero che tutta la cittadinanza che oggi ha partecipato alle inaugurazioni di queste sale hanno ammirato l'opera e sono veramente complimentati di cuore perché veramente hanno visto dei lavori eccezionali. Io sono molto orgoglioso dei lavori fatti internamente, di queste bellissime sale che abbiamo restituito alla cittadinanza, a noi stessi che utilizziamo per diverse occasioni come biblioteca. Ma io sono molto molto orgoglioso di aver contribuito al risanamento della facciata anteriore che è in via del Corso e della facciata posteriore che è in via del Fosso perché è servita anche da volano ad altre iniziative simili. E questo penso che possa contribuire al rilancio anche in un momento di crisi del turismo nella nostra cittadina. Palazzo Brunori trova la sua attuale collocazione nel centro storico di Corinaldo agli inizi del XVI secolo. Simbolo della magnificenza del casato negli anni, soprattutto tra il 700 e l'800, come scrive Fabio Ciceroni nel suo Corinaldo, storia di una terra marchigiana, si arricchisce di arredi e quadri, ma soprattutto di decorazioni alle pareti e dai soffitti, spesso a volta. I dipinti che troviamo nei soffitti, così come anche buona parte di quelli parietali, fanno parte di una cultura che nelle marche, cultura pittorico-decorativa, nelle marche ha avuto degli esemplari notevolissimi, soprattutto nel Maceratese, a Filottrano, ma anche a Senigallia, qui vicino. Per cui queste maestranze altamente qualificate, questi artigiani, che sono poi anche artisti, si sono raffinati grazie proprio all'intervento continuo, solerte, amoroso, delle famiglie patrizie che in concorrenza tra loro ambivano ad avere dimore degne del proprio casato e della propria storia. Negli anni, il tempo aveva fatalmente lasciato un segno pesante nelle opere presenti, in particolare nelle stanze dell'ultimo piano. A compiere le complesse fasi dell'intervento di ripristino, sotto l'aspetto strutturale, il compito è spettato all'impresa edile di Sandra Genga, con cui hanno collaborato diversi artigiani della zona. Per quanto concerne invece le decorazioni artistiche, sono stati chiamati due esperti restauratori, Daniel Salvador Patti ed Andrea Ippoliti, che hanno condotto un'opera eccellente anche sotto l'aspetto filologico. L'abbiamo studiato accuratamente e abbiamo dopo integrato il restauro del soffitto con la decorazione murale di tutto l'ambiente. Ringrazio anche la banca che ha creduto in noi a fare questo lavoro. Ci siamo resi conto che una volta restaurati i teli, se non avessimo riportato sulle mura perimetrali delle decorazioni, questi avrebbero in qualche modo galleggiato con un pessimo effetto estetico. E' nata questo tipo di decorazione che ha cercato di mettere insieme tutte le esigenze tecniche con l'esigenza di rendere qualcosa di esteticamente molto bello, di accettabile e che avesse a che fare con una suddivisione geometrica che rispecchiasse l'epoca. Con l'intervento strutturale esterno ed il restauro delle sale interne, Palazzo Brunori torna dunque al suo antico splendore. Gli ambienti così rinnovati potranno accogliere compiti istituzionali, ma anche nuove destinazioni a servizio della banca, della città e dell'intero territorio. Il Presidente e il Direttore ci hanno comunicato che questi spazi, in accordo con l'amministrazione, verranno messi a disposizione della cittadinanza e questo veramente ci onora e ringraziamo veramente di cuore, ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale, veramente al Consiglio della Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo perché sicuramente insieme, come si è sempre fatto, collaboreremo e utilizzeremo al meglio per la promozione della nostra città, del nostro paese, della cultura con i nostri cittadini. Tante sono state le iniziative che hanno caratterizzato l'anno del centenario della BCC di Corinaldo, toccando diversi ambiti, dalla cultura al sociale, dallo sport alla musica, dalla solidarietà all'aggregazione dei giovani fino a momenti più semplicemente ricreativi. Ma così come l'opera Corinaldo, storia di una terra marchigiana, l'intervento sul Palazzo Brunori è destinato a lasciare un segno profondo e tangibile nel territorio, come vuole la storia e la tradizione della Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo, guardando al futuro, ma sempre con le proprie radici ben presenti nella mente. Questo dovrebbe rimanere nella storia come nella storia rimarrà la pubblicazione che abbiamo fatto perché l'intento anche, oltre appunto alla sede sociale della banca, sarà destinato anche alla consultazione di una biblioteca che andremo ad allestire perché abbiamo grandi materiali e adesso con l'aiuto del professor Ciceroni allestiremo questa biblioteca che un domani potrà essere consultata dagli studenti della zona e dei paesi limitrofi.